La Caritas, per aiutare le famiglie che abitano a Pesaro, ha istituito un fondo di emergenza che verrà interamente utilizzato per sostenere i costi degli affitti, delle utenze e delle spese alimentari. Il fondo chiuderà il 31 gennaio. Per donare è necessario effettuare un bonifico sui conti indicati con la causale Fondo di Emergenza. Caritas, fondo per l'emergenza, per un buon Natale, per tutti.